Si sovvertono tutti i piani strategici che stavolta, visto che abbiamo perso. Io sinceramente ci avevo fatto la bocca, tanto più dopo il primo parziale, anche il secondo, 37 pari, ci avevo fatto la bocca perché vedevo la squadra c'era, c'erano gli elementi. Sono crollati come una schiuma chiaramente di pasticceria. Non sono d'accordo, non sono d'accordo Carlo questa volta che la squadra c'era. Non c'erano alcuni giocatori, bisogna dirlo perché la gente non è che dobbiamo prenderla in giro. Cinque punti e basta da tiri liberi. Io non voglio essere quello che rompe l'equilibrio delle squadre, per l'amor di Dio. Però il punto è che chi deve fare la differenza nella nostra squadra non la fa e quindi bisogna prendere atto di questa situazione. Quindi chi deve lavorare si deve mettere a lavorare per questa situazione. Quando ci sono le partite importanti i giocatori che devono fare la differenza devono fare la differenza. Oggi non lo hanno fatto e meno male che c'erano gli aretini perché i nostri giocatori sono quelli che ci hanno permesso di arrivare quasi alla fine alla pari. Quindi complimenti li faccio ai miei giocatori, lo faccio a De Bartolo e gli altri assolutamente no, non sono per niente contento. Quindi facciano pure in caso di stato o meno, questa è la verità. Non mi sta bene, sono arrabbiatissimo non tanto per la partita perché sinceramente non è che ce ne veniva niente, ma è per le persone che erano venute qui a vedere la partita. Queste persone meritano più rispetto da parte di qualcuno e questo qualcuno si deve vergognare di questa prestazione stupida che è stata fatta oggi. Tutto qua.